Alla luce delle ultime e più complete dichiarazioni del Presidente Berlusconi sul conflitto russo-ucraino emerge una chiara articolata linea, un chiaro articolato indirizzo di politica estera, del tutto inaccettabile per il nostro Paese perché pone in discussione la premessa fondamentale che l'Italia non può discutere e cioè che questa aggressione militare russa sia ingiustificata. Ecco, alla luce di queste nuove dichiarazioni si pone adesso seriamente un problema per il nostro Paese non credo che possa essere accettato che Forza Italia esprima un ministro agli esteri come emerge dalle indiscrezioni è un problema che è serio per la credibilità del nostro Paese, per l'immagine del nostro Paese, anche all'estero sicuramente questa è una questione che poniamo con forza, una questione politica seria che poniamo con forza e la porremo anche con chiarezza al Presidente Mattarella nel corso di consultazione. Grazie 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 Grazie